Soluzioni condivise e risolutive per tutti lo chiedono i sindacati di Wil, CGL e CISL e i rappresentanti dei lavoratori dello zuccherificio del Molise. Tutti abbiamo la responsabilità se questa azienda chiude i battenti, spiegano. Le istituzioni che rientrano nelle decisioni per le sorti dello stabilimento si impegnino con diligenza e rispetto, continuano. I sindacati hanno ringraziato con stima e affetto Fusco e Poltronieri che, specificano in una nota, in questi mesi si sono impegnati nonostante le dimissioni maturate e una speranza che andava spegnendosi. C'è amarezza per l'attuale situazione. L'amarezza, evidenziano Wil, CGL e CISL, di tutti i lavoratori stabili in cassa integrazione ordinaria. Quella degli avventizi letteralmente rottamati, nonostante le grandi rassicurazioni che la politica dava a tutto l'indotto. E alla politica i sindacati hanno chiesto di mediare attraverso soluzioni condivise, ma, dicono ancora, tutto questo non è stato minimamente preso in considerazione. Oggi si è arrivati a una guerra dei poveri contro i poveri, l'uno contro l'altro, mentre dell'affondo contenuto nella nota dall'alto qualcuno perde tempo per fermare un'intera filiera. I sindacati rimarcano che ancora non è stato seminato un solo ettaro di barbabietola che c'è attesa per i soldi della cassa integrazione ordinaria, che l'azienda non può anticipare, attesa anche per il saldo della tredicesima e del lavorato. E aspettano di essere pagati i bieticoltori, i trasportatori, i fornitori, mentre concludono Wil, CGL e CISL, il colosso Suzuker, che da tempo doveva dare il ristoro dovuto, oggi non ha rispettato gli impegni e la disperazione aumenta.